Allora, il prossimo relatore lo presento io. Allora, io definisco il prossimo relatore il poeta della biochimica perché attraverso di lui si conoscono e si comprendono determinati meccanismi che è proprio per alcuni arabi, è arabo proprio. Beh, rendere questa possibilità di aiutare comunque le persone a comprendere la biochimica e poi si sta anche diventando anche un po' biofisico adesso, è che c'era già ragione Giorgio, il professor Mauro Miceli, 25 anni insieme e quindi devo dire grazie anche a lui per questa grande possibilità di condividere questo sogno con tutti voi. Quindi grazie Mauro, grazie di cuore. A te cinque minuti in meno. No, va bene, ce la faccio. Mauro Miceli. Vado avanti con questo? Beh, allora, partiamo, perfetto. Allora, alcuni di voi mi conoscono, è stata una materia che è abbastanza tosta, però va resa un pochino, diciamo, quando uno domanda, c'è stata un'inchiesta alle facoltà di medicina e di farmacia, l'esame più difficile che lei ha dato nella sua biochimica, tutti. Allora, però cerchiamo di renderla un pochettino. Allora, oggi l'argomento che parlo verrà trattato in modo esteso alla scuola di formazione, perché devo dare solo una pennellata, in quanto si tratta di un argomento abbastanza vasto. Allora, Nelle, professor Semenza, che tra l'altro il mio carissimo amico Iorio ha ricordato, anni fa fece una bellissima review su New England Journal Medicine, che quando riescono a queste review vanno soprattutto spesso per il Nobel, Regolazione di ossigeno, omeostasi e malattia, dove diceva, insieme ad altri, e poi vedete hanno vinto il Nobel insieme, che esiste in caso di fossia una regolazione ben specifica, fatta da due fattori che si chiamano proprio, i fattori indotti dall'ipossia, sono addirittura stati identificati tre fattori, l'uno, il due e tre, ma soprattutto i primi due sono molto molto studiati, e pensate che questo fattore più studiato, che è l'HIF1, ha due subunità, una si chiama alfa, è inducibile, l'altra è beta ed è costitutiva ed è presente nel nostro nucleo. Infatti, se andiamo a vedere, andiamo un po' se riesco ora, ecco, con il puntatore, ma non ce la faccio, vabbè, comunque, sulla parte destra avete visto, guardate, sulla parte destra c'è un aspetto di normossia. Che succede nella cellula quando c'è una normossia o un'ipossia molto contenuta? Vedete questo HIF alfa che è nel mezzo? viene controllato da due pensate, si chiamano, guardate, HD-FIA, che cosa sono? Sono degli idrossilasi, cioè loro idrossilano delle catene di HIF e gli dicono, noi ti idrossiliamo, con presente di cofattori c'è anche la vitamina C, l'acido alfa-cetoglutario, il ferro bivalente, e dice, in ogni caso, quando sei idrossilato, perché ti idrossiliamo? Perché in questa maniera poi noi ti facciamo lucchettare, vedete, da questo VHL in blu, che insieme a una E3 ligasi gli dice, ti lucchetto e ti mando nel proteasoma, così stai sotto controllo. Oppure, ora se è stato scoperto, negli ultimi anni c'è un'altra proteina che si chiama, vedete, CDKK2, che allora ti dice, guardate, io ti mando anche nell'isosoma, nel caso in cui, in ogni caso non ti devi esprimere, perché se ti esprimi, in caso di una, invece, ipossia importante, e in determinate condizioni che bloccano i idrossilasi, e lo vedremo, per esempio, l'infiammazione, allora vai nel nucleo e che incontri? Incontri il tuo gemello, alfa e beta, si uniscono insieme, si abbracciano e vanno a trascrivere, vedete, le sequenze HRE, le sequenze praticamente regolatorie dell'ipossia. Eh, vedete, ci sono i famosi coattivatori, perché quando vai a vedere poi all'interno del nucleo abbiamo CBP300, vedete, il P300, insomma, tutti questi suoni coattivatori dicono, attenzione, quando tu ti esprimerai è importante che questo non accada in maniera importante, perché? Perché guardate un po' di cosa succede, vedete, incontra il suo gemello, vanno a esprimere tutta una serie di geni, fra cui vi dico, in primis l'epo, e mi torna l'etropoiettina, mi torna? Certo, perché se sei nipossia, devi produrre più globuli rossi, e quello è giusto, ma c'è anche l'angiogenesi, con l'espressione del fattore di crescita all'endotelio vascolare, in senso buono, e vedremo in senso meno buono, il metabolismo del glucosio, la proliferazione cellulare, solo per citarne alcuni, ma andiamo avanti, la prima cosa che fa succedere un'epoiettina importante, sapete qual è? Che, se voi esprimete in maniera importante questo HIF, lui ha uno scopo, dice, mi hai espresso, mi sono unito al mio gemello, e adesso io, cosa ti faccio, ti blocco l'entrata del piruvato nel mitocondrio. Ma dice, ma come? Cioè l'aceticoenzima me lo blocchi? E certo, quindi vado verso la via glicolitica obbligata, ma si è scoperto che questa via glicolitica obbligata è capace anche di cambiarla, cioè di cambiare anche, diciamo, l'assetto enzimatico, cioè gli suenzimi, la variazione, in pratica il risultato qual è? Una, diciamo, destinazione verso la via glicolitica obbligata, pur in condizioni aerobiche, attenzione, a discapito di quella che può essere la via mitocondriale, ovviamente, e da lì, cioè, capite la conseguenza, che è naturalmente il famoso shift, no? Il famoso su Science, nel 2009, uscì questo lavoro, che poi l'altro confermava Warburg, che ha citato il mio amico Eugenio, proprio la conferma di Warburg, eccola là. Cioè dice, una cellula, diciamo, in condizioni di possia importante, oppure modificata a certe situazioni, guarda caso, cellula in proliferazione tumorale, ha questo shift metabolico. E vedete che però la cellula, come si diceva ieri con il mio amico a tavola, Dio di Enzo, perché noi, Enzo non ci riesce a parlare in maniera normale, capito? Cioè noi parliamo sempre in maniera, appunto, scientifica, non c'è niente da fare, comunque. Allora, cosa succede? La cellula dice, che fai, mi acidifichi? Mi ammazzi? Eh no, io adesso faccio dei trasportatori degli acidi monocarbossilici o del protone, e faccio anche delle modifiche di membrana delle anidrasi carboniche per poter riparare il pH, perché se no io muoio, non devo morire. Allora dice, e questi acidi dove vanno? Dove vanno? Nella matrice extracellulare. Matrice extracellulare che viene intasata. Quindi pensate a questa acidificazione piano, progressiva della matrice. Allora, questi tre vincono il Nobel. Emozione tremenda, 2019, io ero al laboratorio, mi chiama Giorgio, fa guarda le notizie di oggi, che ha vinto il Nobel per la medicina. Ho detto, che l'abbiamo vinto noi? No, cioè, dice no. Cioè, in pratica sì, mi fa. Cioè, sono anni che diciamo queste cose, l'hanno vedere, ho detto, Giorgio, una cosa meravigliosa, ma speriamo che sia applicabile dopo. Mi sono chiesto, no? E qualche cosa sta venendo fuori. Allora, negli ultimi dieci anni, però sempre su New England Journal Medicine, che è il giornale, come sappiamo, più importante a livello clinico, terapeutico, dove tutti i medici e i terapeuti dicono, ah, grazie. Ultimamente sono usciti gli articoli bomba, che poi vi racconto poi, anche sulle terapie. È venuta fuori, ipostia e infiammazione? Due aspetti della stessa medaglia. Sì, è certo. Perché? Perché c'è una citochina maledetta, la conosciamo. Adesso diversi la conoscono, almeno fra di noi, eh. Perché ieri mi ha sconvolto un collega, giustamente, che mi ha detto, anzi, il dottor Natali, che mi ha detto, Mauro, ma lo sai che dopo oltre vent'anni c'è cura qualche medico che non sa che cos'è? Cioè, tenetevi forte, situazioni veramente gravi. E mi ha detto, non sa che cos'è la leptina. Cioè, gli parli di leptina e gli dice, che roba è la leptina? Ma, cioè, basta, c'è fantascienza. Allora, il nucleo olfattore KB, invece, è la maledetta citochina, citochina, che ovviamente, sappiamo, è uno sconquassatore pro-infiammatorio, pro-tumorale, pro-tutto. Allora, una delle situazioni che possa succedere, sappiamo che il macrofago si può polarizzare, in senso, chiamiamolo, pro-infiammatorio, M1-antinfiammatorio. Dovremmo dire anche che il macrofago è il principale attore, dopo, della terosclerosi. Ma questi sono altri discorsi. L'ho parlato alla scuola di formazione l'anno scorso, su questo tema qui. E quest'anno ci ritorno, comunque, alla seconda lezione, che sarà proprio sui lipidi. Allora, ecco, attenzione, che succede ora? Guardate, ci portiamo sulla storia di un macrofago. Guardate la parte sinistra. Ecco, il meccanismo, che vi ho detto prima, dell'ipossia, vi ricordate? Eh, ma guardate bene, che quando si uniscono le due subunità, del famoso HIF, sapete chi esprimono a livello nucleare? Il nucleo al fatto del KB. Cioè, pensate, loro stessi inducono l'infiammazione. Dice, vabbè, ma quello, poi, già è anche nel nucleo, è il citoplasma, ma è lucchettato. Infatti, hanno scoperto, pensate, che il nucleo al fatto del KB, fortunatamente, sta in un lucchetto nel citoplasma. Sono due subunità, 65 e 50, lucchettate da IK beta alfa. Ma, nel caso di... E sono controllate dalle famose idrostilasi, attenzione, le stesse, che aiutavano a non esprimere l'HIF. Ma che succede in un caso di fossia importante? Guardate. Succede che c'è una chinasi che fosforila il lucchetto, viene fosforilato, quindi disattivato, si sgancia il lucchetto, P50 e P65 insieme, accoppiati, vanno nel nucleo. E chi esprimono nel nucleo? Colpo di scena, oltre ai geni infiammatori, l'HIF. Cioè, l'uno esprime l'altro, capito? Si danno una mano a ammazzarsi. Cioè, grazie, te mi hai espresso, ma anche io ti esprimo. E allora, vedete, qui ho messo anche il meccanismo che vi ho appena detto, anche perché queste sdali le posso lasciare tranquillamente, in modo che vediate. È un meccanismo veramente perverso, questo. Cioè, si aiutano l'altro. Vedete, questo è lo stesso visto in senso del macrofago, proprio. E quindi c'è una polarizzazione nettamente M1 a questo punto del macrofago. Impassinate le conseguenze anche, per esempio, a livello dell'endotelio vascolare. L'attivazione macrofagica, ve lo ricordo sempre, è lì che si diventa cellula schiumosa, quando le LDL ossidate, uclicate. Attenzione, anche questo è fantascienza per molti medici di base, che poi vanno sconvolti, dicono, ma capite una cosa che non avevo visto. Eh, l'avevi imparato al secondo anno di medicina, ma te l'hanno fatta dimenticare. E allora, l'ipossia poi regola le cellule immunitarie, perché, attenzione, c'è la tria di famosa, il mio amico Mario Mauro è sempre famoso per... Cioè, io ho le tre I, le tre I stavolta, ho le tre I, cioè, ipossia, infiammazione immunitaria. Eccoci. Si danno una mano, capito? Cioè, uno dice, aspetta un attimo, si, guarda chi c'è, il mio amico NFKB. Eh, ma io sconquasso sia l'immunità innata che l'adattativa. Ma certo, lo faccio a mio favore, per carità, mi aiuto, capito? Cioè, ma qui è importante questo qui, uno dice, ma come lo sconquasso, è sempre negativa? No, si è scoperta, guardate questa cosa particolare, che è il grado di ipossia che regola questo. Cioè, a seconda del grado c'è una regolazione. Dice, ipossia è importante? C'è. Attenzione, allora, un'attivazione è diversa. L'ipossia invece è moderata e recuperabile. Qui dice, contesto di ipossia, contesto delle cellule immunitarie. È molto ben complesso, ma tutto questo lo spiegherò alla scuola ad alta formazione, in particolare. Ma infatti, guardate, un tessuto infiammato, vediamo un altro discorso. Infiammazione con ipossia, richiama le cellule dell'immunità innata, poi dell'immunità adattativa, ma, attenzione, cosa succede? Ci deve essere una regolazione importante. Perché? Perché l'ipossia, se è moderata, dice, oh, attenzione, l'innata mi va bene, occhia all'adattativa perché se è molto forte, mi danno il tessuto. Quindi devo attivare le T-reg e non attivare i CD4 e i CD8, per esempio. Quindi gli helper e i killer, perché se no diventa un danno sul danno, capisci? E allora, e lì dipende però dal grado di fossia. Altra situazione, quando c'è questa situazione, dice, sì, ma te stai recuperando le cellule immunitarie. Eh, ma attenzione, la richiesta di ossigeno a quel punto diventa drammatica nel sito infiammatorio, nel locus infiammatori. Quindi anche le cellule residenti, quelle richiamate, per esempio, dall'immunità adattativa, dicono, in che situazione mi sto trovando? Cioè, mi attivo o non mi attivo, a seconda del grado di fossia? Guardate, la cosa è veramente complessa. Negli ultimi anni sono usciti i lavori sull'ipossia e infiammazione, che è veramente immunità, la famosa 3i. Ora poi Mauro magari mi darà la mano a trovare un termine tipo il pass. E guardate questo colpo di scena. Invece, vediamo l'opposto. C'è invece una situazione di fossia importante che induce l'infiammazione, che dice, ah, per esempio, siamo a livello degli alveoli polmonari, dice, oh, io sto male, eccetera, eccetera. Sì, c'è una bassa pressione dell'ossigeno di PO2. Ma a quel punto, guardate, quelli che sono ovviamente i vadi sanguigni che vanno a irrorare il tessuto polmonare, dice, ci può essere stravaso di liquido, ci può essere attivazione infiammatoria con produzione di interleuchina IL6, IL8, tumor necrosi alfa. Voi dice, va bene, e poi ci sarà un recupero. Eh no, perché purtroppo l'infiammazione, in questo caso, ecco, c'è la formazione, attenzione, di edema, microtrombi, ostruzione, che aggravano l'ipossia e peggiorano l'infiammazione indotta. Ecco perché, molto spesso, in questa situazione, come può essere il Covid, ci si rimane secchi. Cioè, come nel caso anche di... Allora, nei tumori è molto diffusa. Perché uno pensa, e se tu ci ha detto questo discorso della famosa matrice che si inquina, mi immagino che sarà una tragedia. Infatti, inquinando questo, ma vi dirò di più, il fattore che è espresso, il famoso endotelio vascolare indotto del VEGF, il fattore di crescita dell'endotelio vascolare, di tipo A, che è quello principale, è dose dipendente con l'espressione dell'HIF. Dose dipendente, vuoltre, a livello farmacologico. È una prova. E questo qui è correlato alla metastasi. In un tumore, in metastasi, c'è proprio una correlazione tra la crescita tumorale, l'espressione del fattore di crescita vattore dell'angiogenesi, e l'HIF. Allora, finale, in bellezza, ce la faccio veramente in maniera splendida, è inutile stare a dire, cioè. Allora, Giorgio mi ha detto tante cose, però non ieri, non ha detto una cosa importante. Quando nel 2008 mi disse, sai dove hai fatto lo studio di Marco Longo? Vado a Milano, dove hai fatto Canestrari, io dissi, bello Canestrari, vado a Milano dalla Ferrero a farmi fare questi studi, e dice, quella ti ammazza, quella ti disintegra, cioè, è famosa per essere io. Cioè, allora invece lui fece il coraggio, con tanto coraggio, fece gli studi. E questo è quello che è venuto fuori. Quando vidi la Ferrero, con tutte, perché sanno, dico un po', eh, c'è, per carità, Maria Elena, dissi, ma avete studiato anche l'HIF? Ma certo. Si stava parlando quindi 10 anni prima del premio Nobel. E certo, blocca proprio quello. Restituisce il self-food, la respirazione mediodale, e conseguentemente anche riattiva l'HIF 1 alfa. E non solo, avete mostrato anche il blocco delle citochine infiammatorie. Allora, quindi, questo è il famoso lavoro che tutti conosciamo. E le conclusioni che sono fuori lavoro, vedete, dove l'hanno fatte però gli studi? Sulle cellule endoteliali. Perché guardate, quando l'endotelio è un marcatore tessutale micidiale, dovete vedere i vostri pazienti, siate medici, o biologi, o nutrizionisti, o farmaci, come sta il tuo endotelio? Come sta l'endotelio? Come sta la tua barriera intestinale? La tua ECM, dice che ho fatto il che? Che è l'ECM in corso? No, matrice extracellulare, perché poi i giornalisti scoprano il mondo, no? L'hanno scoperto su un giornale, due anni fa. Fantastico, è stato scoperto un nuovo organo, la matrice extracellulare. Mannaggia, ho detto io. Ti voglio chiamare, Marco? Fantastico, ho detto. Ma che bello, non lo sapevo. Cioè, capito? Mi sono adattato, ho detto, ma che bello ricevere dai giornali queste notizie, capito? Che dovrebbe formare anche loro, no? E allora, quindi il problema è quello, come sta il tuo indotelio? Dici, che ne so io, come che ne so? Guarda che ti rischi di schiantare, cioè, il cerebro, il cardiovascolare. Cioè, Mauro però ha detto una cosa importante, guardate, ve lo voglio ribadire, prima causa assoluta di danno indoteliale è il fumo di sigaretta. Quindi, se quello vi dice colesterolo, il professore di colesterolo, me ne frega proprio un tumo di nulla il tuo colesterolo. Quanto fumi? 25, morirai comunque. Fate di paura così, come morio? Sì, certo che muori. Cioè, quant'anni c'hai? 35, ma grazie se arriva a 52. Cioè, capito? Allora, come devi fare? E che come devi fare? Devi cambiare lotta. Allora, conclusione di questo e poi cosa fa? Lui, a questo punto, vanno a Regina Elena e studiano le cellule tumorali e ci hanno risultati, ovviamente, che voi sapete, pubblicati, guardate, e anche lì hanno studiato il fattore ipossico, il metabolismo cellulare, cosa? Andate a guardare? La ciosistribuità alla poptosi, perché questa è, diciamo, HIV dipendente, ma l'altro importante è anche il ripristino della respirazione mitocondriale. E come lo vedi? E come lo vedi? Con l'attato, con l'LDH, ovviamente, anche la stessa più o due. Questo l'ho visto originaria. Allora, a questo punto, ho fatto una conclusione io. Tre laboratori indipendenti, attenzione, che ognuno di loro, ognuno di loro arriva alle stesse conclusioni, è una prova di fatto. Certo, è divertente, mi sono trovato in un convegno dove c'era gruppo di Milano, gruppo di Roma e gruppo di Camerino. E quando andavo mi dicevano, questi noi siamo stati bravi noi, molto meglio di loro. Cioè, però hanno fatto altri studi, sì, a quelli di Roma hanno detto, noi molto meglio di quelli di Milano, siamo andati oltre. E ho detto, l'importante è che siamo andati a concreto. Quindi, con questo volevo dirvi, che naturalmente, tutti questi argomenti verranno trattati alla famosa scuola della formazione, perché in 18 minuti, anzi, sto finendo in 17 e mezzo, ovviamente abbiamo poco tempo, però verranno estesi poi alla formazione. Grazie di tutto. Applausi Allora, Grazie.